Un bambino quando nasce Ho la gioia di annunciare che celebriamo a Roma la prima giornata mondiale dei bambini Che tipo di mondo desideriamo trasmettere ai bambini che stanno crescendo? Come Gesù vogliamo mettere i bambini al centro e prenderci cura di loro Siamo noi la mondica del mondo Pregando in particolare per la pace La pace in Ucraina, la pace in Palestina, Israele e in tutte le terre ferite dalla guerra Chiediamo pace Padre Enzo Fortunato, buongiorno Buongiorno, grazie di essere qui Silvia Salis, vicepresidente vicario del CONI, grazie Buongiorno, grazie a te Un bimbo adesso di quanto? Sette mesi Sette mesi Però lo portiamo lo stesso Lo portiamo in braccio Anche perché il CONI ci sarà Certo, certo, non può mancare il CONI Ci sarà una grande alleanza tra, direi, chiesa e sport Questa è un'altra sorpresa della giornata mondiale dei bambini Allora, che cosa succederà il 25? Allora, il 25 Il 25 è nata mia figlia Il giorno della nascita di padre Pio Vieni, vieni, festeggi il compleanno con noi, eh, della bambina Sarà una festa straordinaria Ci saranno grandi artisti I protagonisti saranno i bambini E poi, nello stadio olimpico Che contiene, purtroppo in più non ce ne possono andare 72 mila bambini con i loro accompagnatori Sarà una cosa bella Allo stadio olimpico? Lo sai, il 25 Io dico subito a chi ci ascolta C'è il sito per le iscrizioni Giornata mondiale dei bambini.org Trovate tutte le indicazioni E il Papa dialogherà con loro Risponderà alle loro domande E questo è un momento atteso anche Perché i bambini poi sono spontanei Sono forti Sprigionano vita E poi il giorno dopo, a San Pietro La grande celebrazione sulla piazza Preseduta sempre dal Papa Con una sorpresa che, insomma, più avanti annunceremo E che lascerà davvero tutti strafelici Veramente? Mi incuriosisci, Padre Enzo Vediamo allora la presentazione di questa giornata mondiale dei bambini Fu la gioia di annunciare che il 25 e 26 maggio Celebriamo a Roma la prima giornata mondiale dei bambini Che tipo di mondo desideriamo trasmettere ai bambini che stanno crescendo? Come Gesù vogliamo mettere i bambini al centro E prenderci cura di loro? Ma i bambini a tutti voi vi aspetto per imparare anche io da voi E noi ci saremo Con i nostri bimbi Ma soprattutto con una grande responsabilità Quella oggi di essere genitori Sì, di essere genitori Ma anche di lavorare nel mondo dello sport Perché il mondo dello sport è la terza agenzia educativa del paese Dopo la famiglia, la scuola Le famiglie italiane ci affidano i loro bambini Per crescere, per crescere nei valori dello sport Credo che questo sia una doppia responsabilità Non solo per, appunto, un mondo deve funzionare Il mondo sportivo deve funzionare Vedere delle regole per tutti, per gli adulti Ma quando si tratta di bambini E della loro crescita, credo che serva molto Certo, per i bambini lo sport è fondamentale È aggregante, no? Unisce Ti dico una battuta, vi racconto Che mi ha fatto Papa Francesco Noi siamo fatti una missione in Ucraina Portando un messaggio del Papa E le maglie che ci ha dato il CONI E la Federazione, la FIGC Federazione Giocaccio Italia Le magliette, no? Sì E abbiamo portate Insomma, davamo le immaginette del Papa Sì, c'era un momento sicuramente bello di commozione Poi appena davamo i palloni Con le magliette Era un boato di festa Cioè scoppiava la gioia Allora ho detto Padre Santo Pensando a questo momento Dico Ma ora che glielo dici al Papa Che quando arrivano i palloni C'è una festa E le sue immaginette Invece un po' così Sottotono Che cosa è successo? Padre Enzo sta raccontando una cosa molto bella Torniamo in studio un attimo E dice una cosa straordinaria Dice ricordati quello che diceva San Giovanni Bosco Sui bambini, sui ragazzi Dice vuoi conquistare i bambini? Li vuoi portare in chiesa? Getta un pallone a terra E ce l'avrai tutto intorno Beh è bello Beh e poi quello è successo Insomma E quello è successo L'oratori si è sempre fatto moltissimo sport Raccontando tu Dunque Invece c'è un bellissimo progetto Che stai seguendo addirittura Con un nuovo cartone animato Tratto da un tuo romanzo Ed è destinato questo progetto a Rai Kids La bambina più forte del mondo Che prenderà vita attraverso la storia di Stella Una bambina con dei superpoteri Sì Stasera Anche grazie a te Perché sarai presente con la tua professionalità Presentiamo al sonno d'onore del CONI Interstellar Games Che è un cartone animato Appunto prodotto da Rai Kids and Love It E è un cartone multisport Il primo che è stato fatto Quindi è un evento Sì sì È un evento in Italia molto importante Sarà un cartone che parlerà di sport Un cartone che parlerà ai bambini Che potranno crescere nell'esempio sportivo Cioè sognando di diventare degli atleti Beh è una bellissima iniziativa Anche l'idea no? Della forza Che è sempre Non è mai una forza fisica È una forza Una forza d'animo Una forza d'animo E anche un po' L'idea della squadra Cioè questi bambini avranno dei superpoteri Ogni superpotere li aiuterà In una sfida sportiva Perché appunto come dicevo prima Si tratterà di uno sport diverso ogni volta E come in tutte le squadre Un vantaggio che hai in uno sport O in un tema O in un campo A volte può diventare uno svantaggio in un altro Quindi c'è il tema della squadra Per cui è un libro anche un po' autobiografico Che racconta notte Il libro sicuramente sì Il cartone è più diciamo È l'evoluzione del libro Stella è uno dei protagonisti del cartone Del cartone dove ci sono altri amici di Stella Sì è una squadra di atleti Che vivono la loro Il fatto di avere dei superpoteri E lo devono vivere di nascosto Perché poi c'è tutto il tema della diversità Quando un superpotere Anche se è qualcosa di grande Qualcosa di bello Ti rende diverso dagli altri E diventa nella società A volte purtroppo qualcosa di negativo Quindi c'è anche tutto il tema della diversità Che è molto importante Bene Allora ci facciamo in bocca al lupo per oggi Grazie Grazie a te per esserci Padrenzo Andiamo davvero avanti Corriamo su questo entusiasmo Guarda Padrenzo fa un sacco di cose Io non so Poi ci sarà anche Permettimi di dire Chi te sta dietro Che sarebbe veramente Cioè Sei un No no collaboriamo Bisogna Un vulcano Un vulcano Bisogna animare questa nostra società Che a volte è stanca Appiattita Invece di vivere A volte vivacchia Oppure si lascia schiacciare dalla vita E invece bisogna portare davvero il contributo Che abbiamo nel cuore Permettimi anche di dire Che Papa Francesco Il 15 No Il 10 e l'11 maggio adesso Parteciperà ad un tavolo Per i bambini Con i bambini All'interno di un meeting internazionale Che vedrà a Roma Sabato e domenica Tutti i premi Nobel della pace Saranno accolti al Quirinale E sarà l'arcipete della Basilica Vaticana E Cardinal Gambetti A presiedere questo momento E l'11 sera ci sarà un bellissimo evento Tu presenterai e coordinerai Questo momento anche di spettacolo Di riflessione All'entrata della Basilica di San Pietro Quindi sarà un momento molto forte Con diversi artisti Anche uno americano Famosissimo Adesso il nome mi sfugge Ma è famosissimo Curiosisci Vedremo Sì sì E ci sarà Anche lì Ci saranno le testimonianze di Spalletti Capitano della Nazionale Vedi Lo sport Entra sempre No ma sport e chiesa Io penso possono essere davvero Un momento significativo C'è una realtà molto importante Sono italiani Davanti al Papa Ah certo Davanti al Papa Nello Stadio Olimpico I bambini con 12 calciatori Da Del Piero ad altri Molto probabilmente anche Totti Questo è il 25 Questo è il 25 Davanti al Papa Insomma ci sarà una partitella Molto semplice Molto 6-7 minuti E quindi anche quello È un momento atteso Perché il gioco Tu hai detto bene prima Silvia Cioè ci aiuta a fare squadra Ci aiuta a capire Che se passi la palla all'altro E te la ripassi Ottieni la vittoria Poi lo sport è un linguaggio universale Quindi unisce i bambini di tutto il mondo Siamo a tante belle iniziative La che c'hai padrenzo Siamo a 100 nazioni presenti Ah beh Questo tuo libro L'encirchica dei bambini Rieducare il mondo degli adulti Con la prefazione di Papa Francesco Che dice ai bambini Io vi aspetto il 25 e il 26 E questo è uno strumento Edito dall'edizione San Paolo Per la preparazione a questo evento Perché ha bisogno di essere preparato Allora Il tuo libro Interstellar Di Silvia Salis Grazie Grazie a voi Di essere stati con noi oggi Chiudiamo con voi La nostra trasmissione Complimenti veramente Per tutto Per il vostro operato Ricordiamo il sito Eleonora Ricordalo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti